buongiorno guardate questa è la candy oggi è 2 agosto 2021 cinesello balsamo piace italia eccola qua si è incastrata la candy aspettate che sei incastrata questa è la candy questa è l'ultima del dei terribili e oggi sto facendo dog sita mia sorella questo è birillo 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 guarda guarda to to birillo to to amore to bello di papà bello questo qua è mio nipotino eh sì è mio nipotino vero to birillo e questa è la candy nata stronzetta e oggi li ho portati fuori oggi fa caldo eh oggi è veramente caldo eh si pucci di formaggio ma ti amo comunque eh meno male certi messaggi sui muri ragazzi comunque il video oggi sarà molto corto vi avevo una buona giornata e un buon 2 agosto ci sentiamo ragazzi ciao candy saluta 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 ciao